Assaltato dai ladri la notte scorsa, poco dopo l'una e mezza, il bancomat della filiale dei Monti dei Paschi di Siena e di Via Gris a Mogliano. Il blitz dei malviventi, forse disturbati dal sopraggiungere di un passante, non è andato a buon fine. I banditi, dopo aver danneggiato il vano di erogazione del denaro per piazzare una carica esplosiva, sono fuggiti a bordo di una BMW che risulterà poi essere stata rubata. La banda, secondo quando riferito dai carabinieri, si è poi liberata del mezzo, dandolo alle fiamme in una zona isolata del territorio di Cessalto. Grazie a tutti.